Da tragedie in due battute di Achille Campanile, il signor Bonifacio, personaggi, la prima signora, la seconda signora. La scena si svolge nel salotto della prima signora, vecchi mobili, vecchi ninnoli e ritratti ingialliti qua e là, una campana di vetro con fiori artificiali sotto, un album di fotografie, un sontuoso lume a petrolio fuori uso. All'alzarsi del sipario la prima signora e la seconda signora sorbono il tè, conversando del più e del meno. Intorno silenzio, dalla strada non viene alcun rumore. La prima signora. E del signor Bonifacio che se n'è fatto? La seconda signora. Pensa, è morto dieci anni or sono e da allora siamo completamente privi di sue notizie. Sipario.